Benvenuti a tutti, sono Cristina Frosini, nuovo direttore del Conservatorio di Milano e sono qui per presentarvi la stagione I suoni del Conservatorio 2016-2017. È la seconda stagione, la prima è stata progettata dal direttore Alessandro Merchiorre e in questa seconda stagione continuiamo la tradizione della prima con qualche piccolo elemento di novità. Il primo concerto è dedicato a Jerry Mulligan e nel primo concerto troveremo la nostra Big Band diretta da Pino Iodice e durante questo concerto Franca Mulligan donerà al Conservatorio di Milano una partitura che Jerry Mulligan ha scritto a Portofino nel 1988. Questa partitura per ottetto che si chiama Octet for Sea Cliff è stata scritta da Jerry Mulligan nella villa di Leopoldo Pirelli e Roselina Archinto. Franca e Jerry erano ospiti di Leopoldo Pirelli e Mulligan è rimasto talmente folgorato dalla bellezza di questa villa, dal paesaggio di Portofino che ha detto voglio comporre. Allora Roselina Archinto ha acquistato un pianoforte, l'ha fatto arrivare alla villa e Jerry ha cominciato a comporre questo ottetto che è infatti anche detto via Portofino, quindi un'ottima occasione per ascoltarlo e anche poi per il Conservatorio di avere sempre la partitura conservata. La stagione poi proseguirà con un laboratorio, anzi due laboratori dedicati a Johann Sebastian Bach, un laboratorio sul clavicembello ben temperato coordinato da Ruggero Lagannà dove i nostri allievi eseguiranno il clavicembello ben temperato su diverse tastiere, quindi un'ottima occasione per ascoltare anche come un preludo e fuga suoni su un clavicordo e l'altro progetto Cantor Café di Cinzia Barbagelata e Sonia Grandis dove vedremo anche l'esecuzione del quinto concerto brandeburghese. La nostra stagione poi continuerà con il 22 novembre con la nostra musica da leggere, musica da leggere nella sala di lettura della biblioteca, quest'anno presenteremo una dozzina di libri e il primo è un libro di Elena Zaniboni, Le corde dell'anima. Continueremo con le nostre domeniche, domeniche di musica maestri ma anche domeniche dove i vincitori del premio del Conservatorio si esibiranno. Il 4 dicembre ci sarà il nostro Francesco Granata che ha vinto il premio dei premi e quindi inaugurerà anche la piccola stagioncina dedicata ai vincitori del premio del Conservatorio. Seguirà poi il primo grande appuntamento con la nostra orchestra sinfonica di produzione, quest'anno in questa occasione il 17 dicembre diretta da Corrado Rovaris, nostro ex allievo e che ormai lavora stabilmente con l'orchestra di Philadelphia e con il Curtis Institute. Ci saranno musiche di Mendelssohn e di Mursowski i quadri in un'esposizione. Continueremo il 20 dicembre con il coro diretto da Maria Grazia La Scala che eseguirà canti della tradizione cristiana natalizia e anche canti gospel nella seconda parte. Sarà l'occasione per farci gli auguri e per mangiare insieme una fetta di panettone e brindare al Natale e al nuovo anno. Appuntamento quindi l'11 novembre alle ore 21 in Sala Verdi per il concerto dedicato a Jerry Mulligan della nostra Big Band e dell'ottetto diretto da Silvano Scanziani. Grazie a tutti.